Come ti chiami? Anna. Massimiliano. Michele. Sofia. Matilde. Quanti anni hai? 17. 18. 18. 16. 16. Che scuola fai? Arcivescovile. L'arcivescovile. Arcivescovile. L'arcivescovile. Arcivescovile. Ma no, che indirizzo! Liceo classico. Istituto tecnico, amministrazione, finanza e marketing. Liceo scientifico. Istituto tecnico grafico. Liceo internazionale. Due cose. Che ami del tuo indirizzo? Lo studio dei classici in sé e poi sono una persona curiosa e il liceo classico mi aiuta ad avere una visione di insieme. Il legame con la realtà e le numerose visite alle aziende del territorio. Beh, il lavoro di squadra e ovviamente i laboratori di fisica e di chimica. I laboratori, in particolare l'aula Macintosh e le ore di fotografia. E le studio dello Sidiomas, un di file proiectem di wichtig per un trezzo consente. Sai chi era Dante? Ma avevamo detto che lo chiedevi ad Anna. Beh dai, questa la fanno tutti. Articolo 3 della Costituzione. E il tribunale è qui sopra. È proprio vero che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Radizia quadrata di due. Oddio, matematica no qui. Aspetta un attimo. 1,414213562. Qual è la cosa che ti piace di più della tua scuola? Che mi fa venire voglia di venire a scuola. L'ambiente sereno, i campi sportivi, i laboratori scientifici, la biblioteca e l'aula Magna. La genuinità delle persone e soprattutto c'è un grandissimo bar. I viaggi all'estero, New York, San Francisco, Madrid, Salamanca, Wien, Passau. L'organizzazione e la polizia. Perché è qui? Perché è un liceo classico all'avanguardia. Studiamo il diritto e in questo modo figure come Socrate, Platone, mi pare di averli accanto. Perché il nostro istituto tecnico ha delle ore dedicate alla cooperazione, nelle quali scopriamo e viviamo l'ambiente cooperativo a 360 gradi. Perché al mio scientifico non diamo i numeri, ma lavoriamo anche con la logica, che ci aiuta per il futuro. Perché da noi al grafico lavoriamo molto su progetti reali. Please, Thomas, help me. Perché durante il quarto anno, Lea diventa All Hallows, la nostra scuola di scuola in England. Le due di noi diventano solo uno. Ok. Hai un consiglio a chi sta scegliendo la scuola? Pensa a quello che davvero ti piace e non preoccuparti di quello che fanno i tuoi amici. Segui i tuoi sogni, ma cerca l'ambiente giusto, come ho fatto io. Mi raccomando, scegli quello che vuoi per te e non quello che gli altri vogliono per te. Se verrai da noi, imparerai a muoverti nel mondo e realizzerai i tuoi sogni. Stai ancora guardando? Vieni a trovarci! Vieni a trovarci! Arcivescovile è più che una scuola! Grazie! Grazie a tutti